Ragazzi, buongiorno, buongiorno, non ci scordiamo l'iscrizione che è gratis, per cortesia, cerchiamo di crescere, non ve l'ho mai chiesto, però ho capito che bisogna chiederla perché se no vi dimenticate. E' attivata la camera lì, detto questo, buongiorno, ieri l'Inter ha vinto 3-0 con il Las Palmas, Aldino Manuzzi di Cesena e va giù, bisogna essere obiettivi, sportivi e dire che daremi, è un ottimo colpo di mercato, cioè penso che questo qua, nel senso mi auguro che dovrà fare il panchinaro, ma può fare tranquillamente il titolare. Perché 4-5 partite, quando ha fatto, ha fatto sempre due doppiette, cioè, di che stiamo parlando? Il problema è che sono troppi, Turan, Martinez e Taremi, però se si rompe uno ce n'è un altro, poi a parametro zero, questo è un grande acquisto, un grande attaccato, niente da dire, niente da dire, lo sta a dimostrare, vabbè la squadra è quella che è, sembra la squadra, la nostra Juve, che a chi mettevi, mettevi davanti. Quindi segnava, quindi l'Inter è a quel livello là, a chi metti, metti, da noi era arrivato, Tevez, chi ci sa, Magliore Ente, chiunque veniva faceva bene, quindi per me, Magliù, ottimo acquisto, e che acquisto? Ciao bene!